Nona giornata Summer Cup, Kids contro Atletico Mica Tanto, quanto stanno? 3 a 0 per gli Atletico Mica Tanto, Vittoria adesso sbaglia lo stup, però torna sui tuoi passi, mette al centro, non c'è nessuno, Coppola adesso, Coppola, dribbling di gambe, supera bene il capitano, no, al centro ancora, palla deviata, poi in avanti, sbaglia il passaggio, Oh, i Kids, il tiro sbagliato, Mattia Migliaccio adesso, Mattia Migliaccio cerca un numero in mezzo a due, Mattia Migliaccio se ne va ancora, poi al centro per Vittoria il tiro, Spina, ribatte in avanti, però contro piede dei Kids, 3 contro 1, sbaglia il passaggio, adesso il rosso come si chiama? Vano, Vano, Vano e Ivano, Ivano, Vano, i Kids si, al centro non ci arriva di poco, mica tanto vincono, però in avanti i Kids non sono da meno, manca la finalizzazione, ma davanti alla porta ci arrivano, si, La Pia, sciabolata morbida per Vittoria, ancora palla alta, Migliaccio lascia scivolare, poi in mezzo a due, il difensore riesce a portare avanti, capitano adesso dei Kids, buone dribbling, però la palla ribatte, auta da Migliaccio che fa un numero in assaggiare il tiro, Spina, palla al centro, Coppola, la Pia, ma chi è Vittoria? Ma chi è bellissimo Vittoria? Ma se scherzassi? L'attaccante dei Kids, non so i nomi, Coppola, 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 ancora Coppola, 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 Numero 6, va bene, dei Kids, il dribbling su Mattia Migliaccio riesce a superarlo, Migliaccio che culo, oh poi sbaglia il dribbling, il tiro, quanto ha sbagliato il capitano dei Kids, doveva passarla al centro, sarebbe stato da solo il numero 9 contro il portiere, e poi la palla finisce in fallo laterale, per i Migliaccio invece, Migliaccio cerca il taglio in Vittoria, buono! Non ci arriva, Migliaccio, lascia scivolare sul fondo, di maso a portare, basta questo pallone a cercare Vittoria, non segue però Coppola e Spina lascia scivolare sul fondo, una bella partita, 14, di Migliaccio, adesso il capitano dei Kids, cerca il centro, e poi sbaglia il passaggio, ma no! 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 ma voi, 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 qualsiasi cosa dovete comprare, voi dovete venire da me, perché c'è amici in sceglie tutto! allora, la prima, la prima, la prima, oh mi devo comprare una bambola con fiatte? no! no! mi dà una delle tue, mi dà una delle tue, mi dà una delle tue, spina! vediamo se cercherà il dribbling, poi la palla, la sensazione laterale, per i migliori, vanno, con i piedi suoi di merda, migliacchi, vanno ancora, buono l'anticipo, migliacchio adesso, vanno gira a vuoto, poi sbaglia lo stop, e butta la palla nel cerchio, torna indietro vanno, non è cosa tua il pallone, la pia, buono il colpo di tacco, al centro, stava sul secondo palo, migliacchio, poi la pia, ancora, il tiro, deviato, un fallo laterale, leonbruno che spellicca anche gli stinchi, migliacchio, buono il passaggio per la pia, alza il pallone, ci arriva però il capitano Nechitto, la pia, migliacchio, qui, dopo che fai una foto, questo punto, si, al centro, non ci arriva di poco, appena Vittoria entra in campo, perché è poco omogenico, qua ancora, la palla finisce in avanti, Coppola, alza il pallone, non ci arriva di poco la pia, però stanno giocando i kids, Guano, palla per i kids, vediamo un'ultima azione, sbaglia il passaggio, è ancora al centro, non ci arriva il capitano, chiudiamo qui il nostro collegamento.